Un libro che ricostruisce la storia di un gruppo politico molto particolare che negli anni 90 ha seguito l'evoluzione del sistema politico cercando di costruire una pluralità nella sinistra di cui ancora c'è bisogno. Abbiamo bisogno di un fronte largo, dei progressisti, dei democratici e naturalmente il temperamento e le esperienze che vengono dal mondo cattolico e dal mondo cattolico sociale sono molto importanti. Se c'è una sfida a cui dobbiamo rispondere sono le domande che fa Papa Francesco come umanizzare non solo la nostra società ma anche il mondo globale e qui il temperamento naturalmente di tutte le esperienze del mondo cattolico sono ancora molto importanti.